Terra Amara Spoiler Turchi, Feliz infine chiede a Sanigli di occuparsi di Uzum. Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi dello sceneggiato ambientato in Turchia rivelano che Feliz chiederà a Gafur e Sanigli e Taskin di prendersi cura di sua figlia Uzum prima di esalare l'ultimo respiro. Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate visibili nelle prossime settimane in TV rivelano che Feliz, se gli nieninci, farà una richiesta straziante in punto di morte. Tutto inizierà quando Uzum pregherà Sanigli di correre velocemente da sua madre in quanto non riesce più ad alzarsi dal letto. La capomastro scoprirà che la giovane operaia sputa sangue dalla bocca e presenta una febbre altissima. Gafur, Bulent Polat, e Unkar, a questo punto, accompagneranno Feliz in clinica dove temerà di aver preso la tubercolosi. Purtroppo la diagnosi dei medici sarà ancora più grave di quello che aveva immaginato. Nelle puntate turche di Terra Amara, in onda prossimamente in TV, i medici diagnosticheranno a Feliz un cancro terminale alle vie respiratore. Tanto da non esserci cure per strapparla alla morte. Unkar, Vaide Persin, Demir Aman, Muratun Almis, e Zuley Altun, Ilal Altimbilek, accetteranno che Sanigli porti Uzum, Neva Pequz, alla fattoria per vegliarla giorno e notte. La capomastro cercherà di far sentire alla bambina tutto l'amore possibile prima del prossimo decesso della madre. Nel giro di poche ore, Feliz esalerà l'ultimo respiro non prima di aver fatto una supplica straziante a Saniglie. L'operaia, infatti, pregherà la capomastro di prendersi cura di Uzum rimasta sola al mondo dopo la morte di entrambi i genitori. Parole che toccheranno il cuore dei coniugi Taskin, i quali si dichiareranno pronti a prendersi carico di tutte le esigenze della bambina. Gaffur e Saniglie informeranno Uzum che sua madre è diventata un angelo. I due rimarrà al fianco della bambina il giorno del funerale di Feliz. I coniugi Taskin così si prenderanno a cuore la situazione della piccola orfana. La coppia, infatti, apparirà disposta a chiedere l'affido di Uzum per darle un famiglia. Una decisione che potrebbe scontrarsi con qualche difficoltà burocratica nel corso delle prossime puntate della soap opera. Le vicende ambientate nella ridente Cucurova sono in onda da lunedì al sabato sui teleschermi di Canale 5 mentre in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di media Zplay Infinity. Azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel Trage de mine caracterul meu de fier Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n'au avut hava. C'è da sus, 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 pot te usasà. Acum che nu...